Buonasera a tutti. Grazie, avete già salutato il professor Sermonti con il giusto applauso e da parte nostra il ringraziamento per aver accettato di essere qua a Firenze nel contesto delle letture d'antis del ciclo primaverile che vedono oggi questa prolusione del professor Vittorio Sermonti. Sappiamo benissimo che per tutti noi è il vero ambasciatore di Dante nel mondo, le sue letture sono punto di riferimento e sono state punto di riferimento negli anni da quelle che sono rimaste un po' nella storia, nell'immaginario collettivo. Qua a Firenze quella è in Santa Croce ma penso a San Francesco a Ravenna, penso a Milano, a Roma. E proprio per questo io che sono presidente del consiglio comunale e che in questa veste più che il presidente della società dantesca mi sento proprio rappresentante del comune di Firenze, voglio consegnare al professor Sermonti il ricordo della città per questa occasione a cui diamo un eco e un'espressione che vuole essere davvero qualcosa che riguarda non solo il suo profilo dell'illustre dantista, ma l'uomo che nel suo amore per Dante ha avuto la capacità di rendere il sommo poeta un punto di riferimento per tanti cittadini, per l'amore verso le lettere, il significato che gli ha dato attraverso le sue opere. E quindi nella città che purtroppo tanto male ha fatto a Dante ma anche tanto bene visto che qui erano le sue radici vogliamo che il professor Sermonti sia per tutti noi un riferimento e un ringraziamento di cuore per quello che lui ha fatto. Il Marzocco è il riconoscimento del consiglio comunale, è il nostro simbolo, sappiamo che nel Marzocco si coniugano i due aspetti della simbolistica di Firenze. Da un lato il leone dal volto umano, Martacus, il leone di Marte, quindi il primo simbolo della Firenze romana e nella statua di Donatello lui tiene il giglio. Il giglio che dalla costituzione di primo popolo del 20 ottobre del 1250 diventò per Firenze il simbolo che poi nella raldica del 1929, nella raldica moderna, è il simbolo della città di Firenze. Donatello in una mirabile scultura unì il simbolo romano con il simbolo che dall'alto medioevo è ancora oggi l'emblema, il gonfalone della città, lo consegniamo alle persone illustri che per un particolare significato si sono manifestate per la città di Firenze. Da ringraziare e niente di più che Vittorio Sermonti, il vero ambasciatore di Dante nel mondo. La parola per la presentazione vera e propria del professor Sermonti a professor Lino Pertile che vorrei ringraziare. E' il sovrintendente della società dantesca, del suo comitato scientifico che è l'Anima. Veramente ci ha portato in questo contesto una possibilità di vivere anche per le sue relazioni, per la sua autorevolezza, un ciclo di letture d'antis di altissimo livello. Veramente quando noi parliamo delle letture d'antis a Firenze ripensiamo a quando i Nord San Michele arrivavano a leggere Dante, era il primo periodo della società dantesca, figure come Pirandello, come Pascoli, come Carducci. Dopo anni in cui tutto questo si era un po' affievolito, grazie a questa conduzione e a questa guida del professor Pertile, io sento che ci sono le condizioni per svolgere da parte della nostra società attraverso queste iniziative scientifiche un livello che ritorna davvero a essere alto. Siamo a 125 anni dalla fondazione della società dantesca, la volle il sindaco Pietro Torrigiani allora perché la città potesse al meglio promuovere il culto del sommo poeta e grazie al professor Pertile, è lui la persona adatta per fare quello che ora vi dirà e poi per presentare al meglio il professor Sermonti. Grazie Presidente Gianni. Prego, ci metto un momento, un momento, perché non ti siedi? Fuggo dalla luce così vi posso vedere. Buonasera a tutti signore e signori e benvenuti a questa eccezionale lettura d'antis che fra poco Vittorio Sermonti ci offrirà. Naturalmente tutti voi siete venuti qui a sentire Vittorio Sermonti e non volete sentire me, ma ho solo una cosina da dire. Ed è questa. Senza poesia si muore di sete. Questa non è una frase mia, è una frase che ho rubato a Vittorio Sermonti. Ed è una frase che mi piace moltissimo perché in certo senso è una sintesi di quello che Vittorio Sermonti è e di quello che fa. Senza poesia si muore di sete. Guardate che è una frase straordinaria perché è una frase piena di cose, non è una frase piena di parole. È una frase piena di cose, di quel tipo di parole di cui abbonda la Divina Commedia e di cui per tanti anni si è nutrito appunto Vittorio Sermonti. Io ho l'impressione che dopo aver sperimentato con il mondo della narrativa, sapete che Vittorio Sermonti scrisse vari romanzi negli anni, non ridisco a dirlo, 50, addirittura 60 e così via, si incontrò con Dante e quello fu veramente un momento cruciale della sua vita di studioso, di intellettuale, di professore, ma soprattutto della sua vita di uomo secondo me, della sua vita. Ed è da lì che vengono frasi come queste. Senza poesia si muore di sete. È una frase concreta in cui un bisogno fisiologico viene soddisfatto da un'offerta di natura, diciamo così, spirituale, di natura linguistica. E riassume questa frase il rapporto di Vittorio Sermonti con la poesia, con la letteratura, con la lingua, la lingua italiana. Quella che lui ci parla e con cui legge, non recita, ma legge Dante. È vero. Il modo in cui lo legge è un modo unico. È perfettamente piano, si potrebbe dire. È perfettamente comprensibile, si potrebbe dire. È perfettamente sillabato. È un modo, anche questo, che è un modo fatto esso stesso di cose. Sapete che negli ultimi tempi, avendo appunto sperimentato non solo con la narrativa, ma poi con la poesia e con la saggistica, Vittorio Sermonti si è dedicato a Dante, poi a Virgilio e ultimamente addirittura a Ovidio, di cui sta traducendo, o ha finito di tradurre, ha finito di tradurre le metamorfosi, che presto, immagino, appariranno a stampa. Devo dire che il suo amore e la sua laboriosità, diciamo, per Dante, è adesso sintetizzata in un cofanetto che raccoglie in maniera sincronica il testo e la voce di Vittorio Sermonti. Ed è uscito da poco, l'anno scorso, presso l'editore Giunti, un cofanetto appunto, che racconta il racconto dantesco, o meglio, lo racconta e lo distilla, direi, per la terza volta, perché in realtà questo è un terzo lavoro che Vittorio ha fatto sul primo, nato negli anni Ottanta, poi rifatto negli anni Novanta e ora, finalmente, rifatto proprio da poco, appunto, l'anno uscito, l'anno scorso, l'anno scorso. La cosa più bella di tutte è che questo è, tornando al tema con cui avevo iniziato, questo è uno strumento che permette di vedere la voce che legge il testo. Nel senso che ci sono i cd, è vero, che vengono in questo cofanetto, che permettono di seguire il testo di Dante nel momento in cui Sermonti lo legge ed è un piacere immenso. Ora però avremo un piacere addirittura più live, come si dice adesso inizi, è vero, perché fra poco ci parlerà dell'ombra del grande poeta, dell'ombra di Dante. Grazie per essere venuto tra noi. Ti lascio. Signor Presidente, Presidente, signor Direttore, amiche e amici di Firenze, Ludovica Piotr. Buonasera. L'esatta gentilezza di chi mi ha invitato a tenere questa conversazione e il lusso di incontrare qualcuno venuto apposta per sentirla, cioè per sentire quello che stasera mi verrà da dire, che spero giustifichino la condiscendenza del mio narciso. Bene, segno che in ordine al tema enunciato dal titolo della conversazione vedrò di tessere una ragnatela di nessi più o meno arbitrari e mi auguro, non del tutto orfani di interesse, fra qualche appoggio fisso che sembra competere alle mie competenze. Il primo di questi appoggi dovrebbe essere Dante, naturalmente, anche se a rigor di lessico. Io non sono un dantista. Ciò che non mi mortifica e tantomeno sia ben chiaro mi inorgoglisce. Ho conosciuto dantisti gretti e tediosi e dantisti di straordinaria dottrina e spirito fulminante. Qualche nemico distratto, qualche preziosissimo amico. Ecco, ma in che senso io non sarei un dantista? Beh, basterebbe dire che un dantista è per definizione uno studioso. E io sono tutt'al più uno studente, un molto attempato studente, che campa scrivendo e da qualche decennio leggendo forte quello che ha scritto. Magari in ordine a qualche grande scrittore e magari di seguito leggendo i testi di questo grande scrittore. E che profitta del fatto che in genere è morto da tempo, quel grande non possa protestare. Dante per primo, d'accordo. Ma intanto, se capire è secondo etimologia, contenere, padroneggiare un oggetto più o meno complesso nelle sue articolazioni e funzioni, averlo incamerato e protocollato mentalmente, è onesto, io confessi, che della Divina Commedia in generale io non ho mai capito troppo. La frequento da poco meno di tre quarti di secolo con intermittente abnegazione, ma capirla, come ho capito ad esempio le regole degli scacchi, gli umori del tergicristallo della mia automobile o l'uso del congiuntivo latino, non l'ho mai capita. Non ho capienza mentale sufficiente. Da sempre mi ostino ad avventurarmi per lo gran mar di quel libro, a navigarci dentro, aggiornando il gruzzolo delle mie avventurose nozioni con qualche noticina carpita alle occasioni del cuore e della mente, insomma, alla vita, e studiandomi le rotte nella certezza di non arrivare mai. Spero semmai che Dante e il suo libro capiscano me, cioè continuino a contenermi, a includere il mio viaggio, che insomma io non mi stia affaticando a remare sulla spiaggia. Basta. Per venire in qualche modo al punto, tanto vale che apriamo la commedia. Quella famosa commedia cui giustamente un tipografo incollò nel secondo cinquecento l'epiteto di divina. Anche se oggi divina non si dice più. Commedia e basta. Quasi che Dante avesse scritto sul frontespizio del manoscritto commedia o comedia, come usava ai suoi tempi, e il tipografo, dopo due secoli e mezzo, avesse aggiunto quel divina per il box office. In tutti i casi divina o no, apriamo la commedia. E apriamola alla seconda cantica, detta Purgatorio. La più idonea a dar conto del nostro tema, che è appunto l'ombra di Dante. Ora, a norma di un ostinato buonsenso diffuso, pare che delle tre cantiche l'inferno sia la più moderna, perché la più umana, dunque la meno noiosa. Il paradiso la più noiosa, perché la meno umana, per quanto comincia a correre voce, intensamente visionaria. Quindi al limite stramoderna, se non addirittura postmoderna. E fra gli estremi, bordeggerebbe né carne né pesce, il Purgatorio, di cui si ricorderà giusto qualche dettaglio paesaggistico, il tremolar della marina, qualche spunto orario, l'ora che volge il disio, qualche patetico scorcio di personaggio, piondo era e bello e di gentile aspetto, ricorditi di me che son la pia. Oh, anima lombarda, come ti stavi altera e disdegnosa, oltre all'assillo di interminabili puntualizzazioni zodiacali. Purtroppo, fra i tanti luoghi comuni che svolazzano intorno alla commedia, i più stupidi rischiano di essere i più fortunati. Per quel che vale una mia convinzione, io sono convintissimo che il Purgatorio sia di gran lunga la cantica più bella, come peraltro ognuna delle altre due, che insomma, non far troppo gli spiritosi, il Purgatorio condivida con inferno e paradiso il privilegio dell'incomparabilità. Dirò di più, se un angelo con la spada si prendesse il disturbo di costringermi a mettere in piazza le mie inconfessabili predilezioni, io finirei per ammettere, fra le tre, di prediligere proprio il Purgatorio. Vediamo. Le dismisure dell'inferno, che in paradiso si dilateranno all'infinito, sulla montagna piantata in mezzo all'oceano, agli antipodi del Monte Calvario, sono ridotte a misure praticabili e civili. La vertiginosa discesa nell'abisso, il volo extratemporale fra le stelle, qui diventano una scarpinata ragionevolmente lunga e ragionevolmente faticosa, fra terrazzamenti larghi poco più di un corridoio di casa. Il fetore osceno dell'inferno e gli impronunciabili metaprofumi dell'Empireo, qui sono odore di mare, di zolle, di roccia, di fumo, d'erba pestata. La perpetua insonnia dei dannati e la veglia eterna dei santi, qui sono un calendario penitenziale che si lascia scandire dalla vicenda dei giorni e delle notti, dello sfinimento e del riposo, del pianto e del sollievo. Ma altra e più attinente prerogativa del purgatorio, almeno più attinente al nostro titolo, riguarda il regime della luce. Nel provvisorio interregno, fra un'implosione di tenebra e uno sconfinato abbaglio, solo il purgatorio consente ai solidi di versare ombra e di versarla in ordine all'inclinazione dei raggi del sole. Lo sol che dietro fiammeggiava roggio, rotto mera dinanzi la figura, cavea in me dei suoi raggi l'appoggio. Ecco, per esempio, purgatorio terzo, versi 16-18, e la luce fiammante del sole all'alba che ha appena svelato lo zoccolo della montagna frangendovisi contro, denuncia al pellegrino degli antipodi la singolarità della sua condizione, investendolo da dietro. Ma nel vedersi ai piedi un'unica sagoma d'ombra, Dante si volge al lato spaurito, fosse rimasto solo. In effetti Virgilio, come tutti i morti prima del dì del giudizio, dispone di una corporalità strana, evanescente. Mi piacerebbe dire, o almeno pensare di sapere, con una qualche precisione, di che genere di corporalità si tratti. Temo sia impossibile. A suo tempo Dante, che ha passeggiato da pellegrino sul tappeto dei golosi dannati sommersi da una pioggia di melma, ci ha fatto sapere da poeta di aver messo i piedi sovra l'or vanità che par persona. Nel ghiaccio di Cocito, in compenso, ci informerà di avere strappato il capello del traditore cui aveva inavvertitamente dato un calcio in faccia e che gli era segnatamente odioso. Ma in compenso del compenso, dal secondo canto della Cantica Seconda siamo venuti a sapere che sulla spiaggia del Monte Purgatorio Dante ha tentato in vano di abbracciare un amico musicista, tanto che desolato chiuserà alla Vergilienne. O i ombre vane fuor che nell'aspetto tre volte dietro a lei le mani avvinzi e tante mi tornai con esse al petto. In compenso del compenso del compenso di lì a quattro canti, Purgatorio sesto, Virgilio e Sordello, entrambi mantovani, ma morti ed umbrificati entrambi, si abbracceranno replicatamente e con piena soddisfazione. Finché, nel venticinquesimo, sempre del Purgatorio, arriveremo alla resa dei conti, alla vista delle anime dei golosi in penitenza spaventosamente emaciate, smangiate e butterate, Dante trasecola. È chiaro che questi penitenti scontano il loro viziaccio con una fame atroce, per non dirte la sete, a norma del più lampante dei contrappassi. Ma, se le anime non hanno nessun bisogno di mangiare, si chiede il nostro, come mai la mancanza di cibo le riduce in quello stato? Allora il poeta Stazio, da quattro canti aggregato sia Virgilio e Dante, si spericolerà in una dissertazione di embriologia metafisica per chiarire la dinamica dei rapporti fra anima e corpo dall'attimo dell'infusione dell'anima vegetativa nel feto al recupero dell'integrità anima-corpo il giorno del giudizio, con particolare riguardo per il periodo della separazione temporanea delle parti che intercorre fra morte corporale e risurrezione della carne e che riguarda appunto la consistenza fisica delle anime d'oltremondo. Con la sua vasta e dottissima tirata, Stazio tenterà di spiegare come mai le anime penitenti, essendo ombre scorporate, labili e provvisorie proiezioni del corpo dei titolari defunti in grado comunque di soffrire e di rappresentare mimicamente le sofferenze che patiscono, ci mancherebbe altro, dannati e penitenti se no non si torcerebbero, non rantolerebbero storie e invettive memorabili, i beati non canterebbero in gloria e Dante non saprebbe cosa raccontarci. Già, come mai cosa? La magrezza non è mica espressione mimica della fame, questa anoressia trascendentale, come potrebbe affliggere corpi d'anima che appunto non hanno alcuna esigenza alimentare? E chiudiamola lì. Certo è che queste figure impalpabili o quasi e comunque più che riconoscibili perché ha da altissima definizione identitaria, questo è un punto di puntiglio della giustizia divina, sono nude. Sembra un argomento futile questo della nudità delle anime dei morti e nella sostanza è futile ma da noi merita forse un filo di attenzione. Per quanto il poeta accenna questa nudità in modo intermittente è solo quando si presenti particolarmente oscena sfregiata o comunque umiliata all'inferno esplicitamente nude saranno oltre alle anime dei golosi quelle degli ignavi dei ruffiani degli indovini dei seminatori di scandalo dei ladri dei falsari e via che vai. Impurgatorio con pari evidenza ma con più tenue sottolineatura quelle dei superbi quelle degli avari e a dire la verità un po' tutte. Per quanto dunque il poeta accenna in modo intermittente alla nudità delle anime almeno su questo punto la dissertazione di Stazio non consente dubbi. Se nell'aldilà la figura d'aria dei morti è irradiazione spaziale della virtude informativa che ha informato in vita la loro struttura corporea è assolutamente improbabile l'ipotesi che questa virtude sommaria prefigurazione del DNA vesta panni. Insomma è tassativamente escluso che le anime d'oltremondo dispongano di guardaroba tutte e per fare un esempio adonta di una univoca e ininterrotta tradizione iconografica anche quella di Virgilio che nelle miniature capitali del 3400 si presenta di regola in rosso arancio o in blu bordato di rosso con bell'assortimento di cappucci chiare e colbacchi ma spesso biblicamente calvo e brizzolato quasi sempre con tanto di barba alla nazarena mentre il 500 a stampa lo virerà sul classico rasandolo e imponendogli il precetto della coroncina dall'oro e l'800 prediligerà per lui prolissi panneggi senatoriali a ornamento di una languida statuarietà adottando definitivamente tritinte fra il turchino e il turchese quando non il rigatino delle litografie questo per non attardarci sulla sconsiderata proliferazione delle illustrazioni novecentesche già e intanto adescati dal caso Virgilio stiamo parlando di un tema su cui contavo di formulare qualche sommessa quasi impresentabile considerazione le illustrazioni della divina commedia o meglio il rapporto che intercorre fra le terzine di Dante e la resa figurativa e le innumerevoli rese figurative della sua favola e dei suoi personaggi io per esempio sbirciando distrattamente centinaia anzi migliaia fra miniature cassoni disegni acquerelli tavole tele affreschi rilievi su pietra legno metallo lito e xilografie gruppi statuari al vivo o in riproduzione non non ho mai visto virgilio nudo d'altra parte che sia nudo e certo è in via di dottrina e in via di favola altrimenti Dante sulla spiaggia vedrebbe spalmata vicino alla sua almeno la sagoma scura dell'abito del duca suo però io come dicevo di virgili nudi non ne ho mai visti voi già ma a rigor di teodicea nudi dovrebbero essere anche tutti beati beatrice inclusa che si presenti nell'eden vestita di rosso carità e accessoriata di verde speranza e bianco fede non dovrebbe far punteggio lì vige un rigoroso statuto allegorico secondo il quale i personaggi non sono quello che sembrano ma esclusivamente quello che significano in quanto anima beata però come tutti beati in paradiso anche beatrice e io non ho mai visto diciamo pure noi non abbiamo mai visto rappresentata in figure questa inoppugnabile nudità planetaria mi domando se l'ho mai immaginata e mi domando se un qualsiasi lettore impregiudicato anche nell'ipotesi che non avesse mai visto una divina commedia illustrata con tanto di Beatrice in lungo e San Pietro in lati clavio leggendo le terzine supreme del paradiso se li sia mai immaginati nudi non lo so e non credo nell'epoca in cui viviamo vige come ben si sa la civiltà dell'immagine che enfatizza peraltro una costante egemonica della nostra travolgente cultura pittorica per modo che ormai non c'è parola suono pulsione dolore concetto odore che non approdi alla sua forma definitiva in una immagine tu abuti a un'image e ringraziamo il cielo se anche importanti patologie si lasciano diagnosticare per immagini che c'è allora di male se la commedia di Dante abutisse pure lei a un'immagine anzi a una colonia di immagini di male niente se non che l'immagine definita definita e formalizzata esclude ogni altra immagine quell'immagine si pianta lì a intercettare e prevenire tutte le labili intermittenti contraddittorie immagini mentali che il testo di Dante accende e spegne nel lettore per impulsi labili intermittenti e contraddittori i quali sottraendosi al principio di identità e non contraddizione si organizzeranno semmai secondo la scriteriata sintassi del sogno una ragione ci sarà pure se a tutto il settecento la quadreria europea ha rappresentato ben poco scene dell'oltremondo dantesco in ogni caso nulla di comparabile con soggetti estratti dall'Orlando o dalla Gerusalemme per non dire dell'Eliade e dell'Eneide che inondavano tele arazzi e pareti signorili di tutto il continente e è che non c'è forse grande narrazione dell'umanità più refrattaria della divina commedia a risolversi in formule visive la ininterrotta ulteriorità fantastica la slavina simbolica il tumulto fonico che le terzine di Dante scatenano dentro il lettore ridutta a lasciarsi frenare da immagini che non sono altro che quello che sono o meglio che non sono altro che quello che significano sotto questo profilo e non solo sotto questo vorrei timidamente rivendicare l'inattualità di Dante e la irrefrenabile proliferazione di iconcine della nuova didattica non penso riesca a irretire la commedia salvo a riproporre in una metastasi di ammicchi figurine e riquadrini con evidenziatore i battiscopa di note che rasentavano il soffitto della pagina nei libri del nostro liceo non penso insomma che i nuovi protocolli sensoriali e cognitivi fondati sulla simultaneità ubiquità e virtualità e deputati alla vista mediante abuso di polpastrello il Castiglione avrebbe forse deprecato questa singolarissima ruina dalla vista al tatto o viceversa non penso dicevo che i nuovi protocolli sensoriali eccetera siano particolarmente omogenei all'orizzonte culturale di Dante e se posso permettermi una parola grossa alla sua poesia credo invece che la commedia di Dante sia un immane racconto profetico che scorre via nel moto di una spazientita sequenzialità narrativa e che sia bene lasciarlo scorrere se ci costringerà a scorrere dietro con la lingua di fuori tanto meglio sia chiaro l'orizzonte culturale e percettivo di Dante non esclude certo la formulazione di immagini inutile ricordare che nell'ambito dei monoteismi mediterranei il cattolicesimo degli scolastici che bene o male contagia e inquadra il dantismo di Dante smussi il rigore iconoclastico dell'ebraismo e dell'islam con le suggestioni potenti dell'olimpo iconografico dei gentili inutile ripetere che il campionario dei santi intermediari fra l'uomo e il dio unico ed eponimi dei luoghi di culto esiste una moschea o una sinagoga intestata ad altri che all'unico dio come dicevo il campionario dei santi concili il credo monoteista con l'immaginario politeista magari assumendolo e giustificandolo come codice metaforico per la dabbenaggine dei fedeli sì senz'altro la commedia cattolica non si ricusa alla immaginazione di immagini alla visione di visioni tanto che alla fine il pellegrino Dante vedrà nell'empireo addirittura dio ma nel vederlo non vedrà che l'invisibilità di un punto luce e una faccia d'uomo non percettibile perché dell'identico colore del disco che la iscrive e ci dirà da poeta che non può dirci che cosa ha visto anzi nemmeno di averlo visto dato che a tentar di dire il nulla che si ricorda gli escono di bocca i balbettii e gli schiocchetti che fanno i neonati ha senso imporre una resa figurativa all'invisibile applicare il fermo di immagine a ciò che è definitoriamente inimmaginabile quindi affidato alla non immaginazione che balugina nel buio profondo di ogni singolo lettore come baluginava nel barbaglio della visionarietà di Dante no amiche mie e amici miei di Firenze di quella visionarietà non sapremo mai altro che la nostra discorso che varrà soprattutto per il paradiso e per la sua ottica inusitata ma scendendo un bel po' di quota e ripensando ad esempio i guardiani mitologici dell'inferno da Caron di Monio ai giganti che piantonano la banchisa di Cocito dobbiamo ammettere che gli intricati identichid che oggi siamo in grado di ricavare da un repertorio antropologico letterario e figurativo infinitamente più ampio e problematico diciamo pure più scientifico di quello che aveva portato un intellettuale del 2300 hanno ben poco a che vedere con le immagini che nell'immaginazione di Dante avevano graffito a fondo i versi dei suoi autori latini versi che egli frequentava con una confidenza ed una abnegazione fantastica che sono andate smarrite per sempre eppure non c'è a tutt'oggi quotidiano o settimanale che salvo sporadicissime eccezioni per segnalare un saggio una riedizione un DVD della commedia non esibisca questa o quella riproduzione di Gustave Doré comunque nerastra per eccesso di inchiostratura non so come voi come chi di voi si sia concesso una volta di immaginarsela abbia immaginato la bolgia dei ladri dove per chi ricordi Inferno canti 425 si sgrana un orribile campionario di metamorfosi incrociate fra dannati e rettili un delirio terrorizzante l'onesto lettore legge e non crede ai suoi occhi li chiude e aspetta la salita dei fantasmi Doré è un grandissimo incisore non ce l'ho con Doré e quel suo non concepire anime dell'aldilà se non debitamente palestrate oggi può perfino mettermi di buon umore però da ragazzino ricordo benissimo mi offendeva perché mortificava inceppandola la principesca impalpabilità dei miei incubi e se da ragazzino a quelle litografie di precetto avrei preferito di certo i disegnini per esempio di Samuel Chwest pubblicati un 4-5 anni fa a New York insomma li avrei presi con più confidenza perfino con un certo sollievo giocare con Dante è un metodo non spregevole per cominciare a frequentarlo e ad amarlo a questa veneranda età confesso di considerarli paradossalmente d'accordo paradossalmente più danteschi più curiosi più scrupolosi di Dante del bodybuilding neoclassico di Gustave Doré e così via senza omettere nemmeno nei riquadrini in basso a destra quattro scostumate vignette illustrative della trappola tesa da Papa Bonifacio a Guido da Montefeltro e che Guido racconta in punta di fiamma nel canto 27 dell'inferno ma non vorrei farla troppo lunga mentre come dicevo grandi tele sulla divina commedia praticamente non esistono prima dell'ottocento romantico le illustrazioni più o meno didascaliche se non puramente ornamentali a margine del testo a pennellino a stampa attivano nei secoli un repertorio torrenziale che come dicevo non accenna a placarsi di altri nobili illustratori non starò qui a parlare perché la perizia di molti la conclamata maestria di alcuni il genio di due o tre botticelli botticelli sublime stradano stradano blake blake mi costringerebbero a fare salti mortali a dire al tempo stesso quanto è bravo quello e quanto mi dispiaccia che sia bravo e in ogni caso quanto poco mi importi della sua bravura dovrei peraltro continuare a primeggiare forse per la sua atletica teatralità o per la sua tecnica eccellente certo per la pigrizia dei redattori delle pagine cultura e allora viva Doré anzi ho anche ripescato un'illustrazione del purgatorio e vorrei segnalarvi qualche differenza rispetto alle incisioni della cantica precedente ecco qui per esempio i penitenti sono in decorose camicie da notte bianche non sono particolarmente costruite sembrano decorosamente aggregati questa gente che preme a noi è molta si legge in didascalia trascritto da purgatorio quinto quinto 43 vi prego di osservare la scenografia azzardata dall'ottimo Doré la fastosa foresta verticale il laghetto trasparente un lontanissimo cielo vagamente velato scenografia eccellente per il grand'opera o per il set di un colossal ma che non ha relazione alcuna col racconto di Dante osservarla e ricordarsene perché al quinto canto torneremo per chiudere qui però vorrei porre un problema piuttosto centrale per accedere in qualche in modo all'immaginario di Dante quali sono i referenti pittorici che in un modo o nell'altro lo prefigurino e lo condizionino prima di tutto ce ne sono non sto parlando certo del repertorio figurativo cui il poeta avrà pur fatto l'occhio delle fonti iconiche cui bene o male si approvvigionerà magari senza farsene un problema a parlarne non si finirebbe più e non sono certo io particolarmente titolato per farlo immagino per dirne una che il dorso istoriato di Gerione sommozzatore volante evochi gli intarsi policromi dei maestri cosmateschi e tanta drapperia fresco del primo trecento ma giurerei che le fonti precipue della sua orribile seduttività siano in Ovidio nell'Apocalisse o negli animali fantastici una manticora un morintomorium che l'erudizione tardo medievale spulciava da antichi repertori di incubi e inventariava meticolosamente insomma siano fonti letterari e scritte disponibili a moltiplicare figure sull'orizzonte fantastico di chi legge così il lucifero dell'ultimo di inferno per quanto a prima vista il suo impianto iconografico figuri entro i limiti della tradizione ricorderà ad esempio il lucifero del mosaico del suo bel San Giovanni o quello giottesco che Dante vedeva sulla parete d'ingresso della cappella degli Scrovegni a pensarci è molto meno badiale e ridicolo di quei tripponi completi di corna e coda accovacciati su un termitaio d'anime dannate con un diavolo per capello e un drago per orecchio anzi ridicolo lui non è per niente lui non si manifesta affatto in un campionario di orrori ornamentali questo demonio principe è un'allegoria meccanizzata che ha radici non vorrei sbagliarmi nel commento di Sant'Agostino a quattro versetti di Isaia e nell'ingente letteratura che quel commento ha sviluppato nei secoli fondando la favola cosmogonica e teologale del più bello dei serafini con tutto quel che segue insomma fonte precipua del lucifero dantesco è mi sembra una fonte scritturale d'altra parte che l'atrocità delle invenzioni del disperatissimo inferno del battistero di Firenze abbiano fornito più di uno spunto per esempio al Dante delle trasmutazioni nella terribile stipa di serpenti della settima Bolgia fermamente opinava Roberto Longhi il quale tirerà in ballo a proposito di inferni anche il grottesco dichiarato di giunta vecchio del maestro delle storie del San Francesco in Santa Croce e via che vai in quanto nel loro manierismo dichiarano la volontà di esasperare fino allo spasimo il congegno del tecnicismo orientale tanto da riescire sia pure a testa rovescia come Dante da quell'abisso meccanico in un mondo espressivo anche se ad oltranza così Longhi investiga di là dalle analogie di soggetto qualche modello stilistico dell'espressività di Dante ma ed è questo che più investe il nostro discorso e mette in gioco la genialità sua Longhi affronta anche il tema capitalissimo dell'idea di spazio che ospita e produce l'immaginario di Dante e a questo punto timidamente si affaccia un secondo appoggio fisso di mia competenza perdonate al Narciso un breve inciso autobiografico dunque dall'anno di Grazia non vorrei sbagliare 1953 all'alluvione del 66 ed oltre tutte le volte che venivo a Firenze e ci venivo spessissimo anche perché a Firenze ho finito l'università e dal 55 mi ostino ad essere redattore di Paragone tutte le volte mi acquartieravo c'è Longhi Banti via Benedetto Fortini 30 dove mangiavo dormivo giocavo a bocce lì ho passato ore e ore con Bassani e Bertolucci Lacorti e Testori Contini e Carrà Garboli e Segre ed ho concepito una vera passione per i modi e le tecniche della pittura per i rischi della poesia per il fascino ambiguo della narrazione e tutto sotto leggi da perentoria di Roberto Longhi è stato lui a volermi nella redazione di Paragone Verde ad aver rifilato alla Sanzoni il mio primo romanzetto lui a leggere e a far pubblicare in rivista tutte le prose che mi scappavano scritte perfino qualche verso tutt'altro che indimenticabile mentre non ricordo affatto già che ne parlo non ne ho mai parlato non ricordo di aver mai sentito sul mio lavoro un giudizio della Banti per vago e sbrigativo che fosse il fatto è che lei detestava il termine è purtroppo preciso detestava tutti gli allievi prediletti e le mascotte letterarie del suo grande e terribile coniuge oltretutto nei giochi delle opzioni fondamentali in cui si incorreva spesso a tavola io mi trovavo regolarmente nel campo di suo marito cioè nel campo opposto al suo fra Pinocchio e Libro Cuore a titolo d'esempio lei preferiva infinitamente Pinocchio Longhi e io no fra Venezia e Firenze eccetera eccetera ciò che garbatamente la esasperava d'altra parte i rapporti fra i coniugi per quel poco che io ne sapessi e volessi capire erano sostenuti cortesi ma intrisi di dolori e temo di rancori lontani però io non sono un teste attendibile a conti fatti non ho mai conosciuto davvero né Anna Banti né Lucia Lopresti né a dirla tutta Roberto Lunghi chi conosceve e ha registrato in materia notazioni di ben altra competenza e sottigliezza è Cesare Garboli amico indimenticato semmai di tanto in tanto mi capitava di addentrarmi in interminabili conversazioni pomeridiane con i Longhi la sigaretta appesa all'angolo destro della bocca nel corso delle quali conversazioni come ovvio io non aprivo bocca e in un piovoso pomeriggio se ben ricordo del 94 egli mi accennò a una sua teoria sulla spazialità della divina commedia per lui ricordo era proprio divina e sui suoi referenti figurativi teoria che ho poi visto sviluppata nel numero di dicembre 1956 di Paragone letteratura ma perché affaticarmi è affaticarvi riassumendo la prosa incontenibile del maestro tanto vale vi legga qualche paragrafo magistrale del saggio che va sotto il titolo gli affreschi del Carmine Masaccio e Dante e che attiene strettissimamente all'ombra di Dante di cui non riesco a parlare da tre quarti d'ora anche se quelle pagine mi vedrò costretto a citarle a strappi ecco Roberto Lunghi chi vorrebbe provarsi a diminuire anche di un soffio l'ombra che trascorre nel brano dove San Pietro risana i malati con l'ombra ma perché ombra e luce si spiegano in tutto il ciclo della Cappella Brancacci con eguale vigore quel brano potrà ben servire da simbolo inconscio della intenzione più profonda di Masaccio che fu di risanare con l'ombra la pittura stessa e perché così già si accenna alla collocazione storica e culturale di Masaccio troppo spesso definito un giotto rinato in nuove condizioni Giovi invece insistere sulla frattura incolmabile che lo divide dalla pittura del trecento figurativo Giotto infatti purgava costantemente le figure del controllo esistenziale dell'ombra Masaccio lo ritrova salto quindici righe e leggo dopo la visita al buio dell'inferno ove è privazione di lume e pertanto anche d'ombra Dante uscito alla luce astrale del monte purgatorio si fa ripetutamente riconoscere come corpo vivo dall'ombra che egli getta su questo punto medita forse Masaccio su questo radicale egli intende che anche lo spazio del brunelleschi può farsi abitato e pulsante abitato da gente nuova energica come quella che qui incontriamo non intesa ad assolvere teneramente o a condannare attrocemente in effigie ma ad agire fortemente e di persona in ogni grado nell'espressione di questo suo nuovo e attivistico umanismo Masaccio non si fermò ad evocare soltanto la scena antica del tributo ma intese presto che gli apostoli potevano ormai comparire per le vie di Firenze e del contado e di lì a poco a chiudere tale in breve il messaggio incompiuto dell'arte di Masaccio quel suo modo di rilievo vitale quasi una rivelazione del segreto dell'esistenza terrena in una fisica nobilitata dall'azione dove certo riempire i contemporanei di una meraviglia pari a quella che gli spiriti del purgatorio dantesco provano ad accorgersi che Dante è vivo perché getta ombra da un impianto concettuale di questa sontuosità ho ricavato la piccola idea che i riscontri figurativi della spazialità che ospita l'immaginario di Dante almeno del Dante del purgatorio siano successivi successivi di un secolo abbondante alla redazione delle terzine siano per dirla con Borges fonti postume e che a definire la spazialità sia la meridiana che l'ombra del corpo di Dante traccia sulla roccia del monte e sbalordisce i penitenti e proprio quell'inopinata ombra meridiana che designa gli spazi della purgazione ne scandisce anche il calendario se il controllo esistenziale dell'ombra avverte quelle ombre senza ombra del fatto che Dante è vivo al tempo stesso nell'interfaccia della vita costituito dal tempo durata del purgatorio le fa vive sì no nessun poeta nessun teologo forse nessun essere umano ha immaginato morti così creaturalmente così disperatamente così concretamente vivi come le anime di purgatorio che racconta Dante le ombre ad esempio che nel famoso quinto canto alla vista del pellegrino che risale il monte con quelle membra con le quali è nato rimpiangono il corpo che le proiettava sulla terra e desiderano intimidite dalla bramosia il corpo che il giorno del giudizio le assorbirà per sempre nella luce assoluta che dicono sia l'ombra di Dio appunto si diceva purgatorio ma a questa altezza bisognerà pur accennare a come e quanto il purgatorio di Dante Dante per così dire se lo sia inventato lui basterà ricordare che quando mette mano al poema l'esistenza di un terzo regno intercalare e transitorio fra i due regni eterni della dannazione e della beatitudine figura acquisita all'inventario speculativo dei dottori della Sobon e all'aneddotica di monaci e frati da poco più di un secolo omologata al dogma romano da poco più di trent'anni anche se i teologi cattolici e la cattedra di Pietro non si pronunceranno mai sull'ubicazione sulla struttura fisica e sul calendario penitenziale del purgatorio limitandosi a suggerire l'idea di una proroga della vita che anticipi in tempi e forme accessibili all'immaginario degli umili i provvedimenti dell'equità divina e insieme ammortizzi l'impatto con le terrificanti consolazioni dell'eternità anzi qualche anno fa siamo venuti a sapere che il purgatorio a rigor di dottrina non esiste proprio non ho voce in capitolo so solo che ringraziando il Dio il purgatorio di Dante esiste e come se esiste ma già che ci siamo vorrei segnalare come anche in ordine alla collocazione del monte purgatorio nell'oceano sotto il paradiso terrestre agli antipodi del monte calvario Dante si attenga a fonti scritturali cioè alle chiose al genesi di Sant'Agostino e non a una qualsiasi rappresentazione figurata semmai semmai ovi mi sia consentito un minimo incidente probatorio per quanto attiene alla singolare struttura architettonica della montagna che oggi qualcuno potrebbe definire l'architettura a cubatura zero del purgatorio bene di quella singolare struttura e delle sue valenze simboliche mi sembra si possano riscontrare tracce in un ciclo figurativo che è data a Ravenna nel secondo decennio del Trecento cioè negli anni in cui cominciavano a diffondersi quantomeno in ambito cortese le terzine della seconda cantica e nella città dove Dante stava consumando gli ultimi anni della sua vita sto parlando degli affreschi dell'abside della chiesa delle Clarisse dipinti da Pietro da Rimini appunto in Ravenna nell'eggita nell'eggita dei Polentani ospiti terminali del poeta certo infatto d'ombra non c'è qui accenno alla compatta granulosità delle fessure degli aggetti bui che Masaccio adibirà a scolpire i suoi santi popolani qui le ombre tutta al più per il poco che ancora si lascia vedere brucano timide ai piedi dei pastorelli dei soldati e delle sante donne però la struttura abbalse e la sagoma a panettone della montagna che culminando sotto l'albero della conoscenza del bene e del male sovrasta la natività nella lunetta della parete meridionale non cercate il bambino che il centro dell'affresco è cancellato e il fatto che quest'albero edenico sia simmetrico alla croce del crocifisso che vola sull'ogiva della parete sinistra la quale ogiva stilizza appunto il monte calvario dato che conferma in immagine la simmetria omeopatica fra l'albero del peccato e la croce della redenzione bene questi elementi iconici e questa simbologia concreta sembrano dirci sembrano che se Dante non si è approvvigionato all'iconografia corrente per il suo folle immaginario il suo folle immaginario ha nutrito e da subito e in loco la fantasia grafica di almeno un pittore e tutt'altro che secondario ma basta così ora ci leggeremo il quinto canto del purgatorio fulcro della ideologia spazio-temporale dell'ombra sul monte purgatorio dunque anime di penitenti accovacciate al ridosso della parete rocciosa sull'arena dell'antipurgatorio dall'ombra che Dante sviluppa si sono accorte trasecolando che quello lì dovrebbe essere vivo se mi consentite un'ultima divagazione parlo a dirotto molto breve lasciatemi domandare com'era poi davvero Dante vivo e lasciatemi rispondere beh il Dante di Raffaello quello per capirci della disputa del sacramento è un inverosimile capolavoro però appunto un po' troppo inverosimile per essere vero tutti gli altri non mi hanno mai persuaso del tutto con la loro accigliatura di tre quarti e tantomeno mi convincono statue o mezzi busti giubilari mi spiace ma se c'è un poeta che non somiglia alla propria statua è proprio lui il Dante dopo il languido dantino della cappella della Maddalena nell'illusione che sia proprio di Giotto confesso che l'unico ritratto che mi abbia dato l'impressione che il ritrattista avesse esperienza oculare del soggetto è una china di Delacroix titolo Chopin de Guiseon Dante Delacroix d'accordo non aveva mai visto Dante e i suoi danti all'inferno sono di una fiammeggiante convenzionalità ma almeno Chopin lo aveva visto e stravisto con i suoi occhi almeno quella china è viva ma adesso basta rileggiamo il quinto del pulgatorio e andiamo a casa io era già da quell'ombre partito già quali ombre minimo promemoria di comodo le ombre sono quelle dei neghittosi penitenti siamo sulla spiaggia dell'antipurgatorio fra quanti per una ragione o per l'altra hanno tardato fino in punto di morte a pentirsi e affidarsi alla pietà di Dio ci verranno subito incontro i morti per forza cioè i morti di morte violenta che si sono convertiti solo in agonia sentiremo la voce di tre ombre quella di Jacopo del Cassero giure consulto di Fano Guelfo nemico accanitissimo di Azzo ottavo d'Este il quale lo farà ammazzare da sicari nella palude formata dal Brenta all'altezza del borgo di Oriago sentiremo queste parole quella di Bonconte da Montefeltro figlio del famosissimo Guido giovane e prode capitano Ghibellino che muore in battaglia sulla piana di Campaldino e il cui corpo non fu trovato mai a Campaldino come tutti ricordiamo combatte anche Dante feditore a cavallo dell'armata Guelfa e quella della Pia forse Pia de Tolomei scaraventata pare o fatta scaraventata scaraventare su disposizione di suo marito dalla finestra pare di un castello della Maremma o forse no ma adesso amiche e amici di Firenze basta davvero la parola a Dante io era già da quell'ombre partito e seguitava l'orme del mio duca quando di retro a me drizzando il dito una gridò ven che non par che Luca l'oraggio da sinistra a quel di sotto e come vivo par che si conduca gli occhi rivolsi al suon di questo motto e vidile guardar per maraviglia pur me e l'ume che era rotto perché l'animo tuo tanto si impiglia disse il maestro che l'andare allenti che ti fa ciò che qui vi si pispiglia vien dietro a me e lascia dir le genti sta come torre ferma che non crolla giammai la cima per soffiar di venti che attraverso veniva fatene saggi e il mio maestro voi potete andarne e ritrarre a color che vi mandaro che il corpo di costui è vera carne se per vederla sua ombra restaro come io avviso assai e lor risposto faccianli onore ed esser può lor caro vapori accesi non vi dio si tosto di prima notte mai fender sereno né sol calando nuvole d'agosto che color non tornasser suso in meno e giunti là con gli altri a noi di er volta come schiera che scorre senza freno questa gente che preme a noi è molta e vengonti a pregar disse il poeta però pur va e in andando ascolta o anima che vai per esser lieta con quelle membra con le quai nascesti venian gridando un poco il passo queta guarda s'alcun di noi unqua vedesti si che di lui di là novella porti dè perché vai dè perché non t'arresti noi fummo tutti già per forza morti e peccatori infino all'ultima ora quivi l'ume del ciel ne fece accorti sì che pentendo e perdonando fora di vita uscimmo a Dio pacificati che del disio di sé veder n'accora e io perché nei vostri visi guati non riconosco qualcuno ma se a voi piace cosa che io possa spiriti ben nati voi dite e io farò per quella pace che dietro a piedi di si fatta guida di mondo in mondo cercarmi si face e uno incominciò ciascun si fida del beneficio tuo senza giurarlo purché il voler non possa non ricida on Dio che solo innanzi agli altri parlo ti priego se mai vedi quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo che tu mi sia di tuoi prieghi cortese infano sì che ben permessa adori purché io possa purgarle gravi offese quindi fu io ma li profondi fuori ond'uscì il sangue in sul quale io sedea fatimi fuori in grembo agli antenori laddove io più sicuro esser credea quel da esti il feffar che m'avea in ira assai più là che dritto non volea ma se io fossi fuggito in verla mira quando fu sovraggiunto adoriaco ancora sarei di là dove si spira corsi al palude e le cannucce il braco mi impigliarsi chi cadi e lì vidio delle mie vene farsi in terra laco poi poi disse un altro dè se quel disio si compia che ti trage all'alto monte con buona pietate aiuta il mio io fui di montefeltro io sono un buon conte giovanna o altri non ha di me cura per chi io votra costor con bassa fronte e io a lui qual forza o qual ventura ti traviò si fuori di campaldino che non si seppe mai tua sepultura oh rispose egli a piede il casentino attraversa un'acqua che a nome l'archiano che sovra l'ermo nasce in appennino là vel vocabolo suo diventavano arrivai io forato nella gola fuggendo a piede e sanguinando il piano qui perdei la vista e la parola nel nome di maria finì e qui caddi e rimase la mia carne sola io dirò vero e tu ridì tra vivi l'angelo di dio mi prese e quel d'inferno gridava o tu del ciel perché mi privi tu te ne porti di costui l'eterno per una lagrimetta che mi toglie ma io farò dell'altro altro governo ben ben sai come nell'aere si raccoglie quell'umido vapor che in acqua riede tosto che sale dove il freddo il coglie giunse quel malvoler che pur mal chiede con l'ontelletto e mosse il fumo e il vento per la virtù che sua natura diede indi la valle come il diffus spento da prato magno al gran giogo coperse di nebbia e il ciel di sopra fece intento sì che il pregno aere in acqua si converse la pioggia cade e affossati venne di lei ciò che la terra non sofferse e come ai rivi grandi si convenne verlo fiume real tanto veloce si ruinò che nulla la ritenne lo corpo mio gelato in sulla foce trovò l'archian rubesto e quel sospinse nell'arno e sciolse al mio petto la croce chi fe di me quando il dolor mi vinse voltò mi per le ripe e per lo fondo poi di sua preda mi coperse e vinse te quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via seguitò il terzo spirito al secondo ricorditi di me che sono la pia siena mi fe disfece mi ma remma salzi colui che nanellata pria disposando ma vea con la sua gemma grazie 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 a te di questa magnifica di questa elegantissima elegantissima lezione che tutti noi ricorderemo e invece umile memoria di noi ti lasciamo la medaglietta della società tantesca italiana insieme con la tessera onora di socio onorario della stessa società che come tu sai ha sede qui nel palaggio della lana dove speriamo di vederti venire a leggere magari ad ammirare o addirittura direi a prendere così di petto certe illustrazioni che trovi troppo vestite è vero e che adesso noi vedremo tutti con occhi diversi ma grazie grazie di nuovo e grazie a te a te a te grazie Grazie Dio, è bellissimo. No, no, è buono. No, molto, 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 molto.